Andremo in giro con degli apini lungo tutto Lido di Camaiore insieme a Graziano Salvadori, questo alle 19, l'ora dell'aperitivo, e faremo irruzioni nei bar, nei ristoranti, eccetera, eccetera. Poi gli apini verranno posizionati sulla passeggiata a mare di Lido di Camaiore davanti al pontile Bella Vista. Su un apino ci andrà il DJ, su un altro ci starò io e su un apino forse andrà anche Radio Bruno. Vedremo come sistemarci, se nel vostro gazebo tradizionale oppure su un'ape che vi forniremo. Per cui questa è la serata, andrà avanti fino alle due e mezzo, ballare sul mare è una cosa eccezionale per salutare l'ultimo dell'anno, ovviamente tutto è ingresso libero, per cui vi aspettiamo. Noi siamo pronti.